neve 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 una cascata di neve ragazzi mamma mia no è un incubo sta diventando un incubo per me non ce la faccio più no ragazzi guardate che meraviglia guardate guarda altro che la neveogenese venite con me venite oh madre mia che si fa ma si può mica andare avanti così lo avranno le No, vanno piano, 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 e qui c'è tanta gente. Eh! Volevo in queste mani. Va bene, torno a casa. Bella documentazione, però, eh. Poi non dire che a Roma ha nevicato poco, che per pochi centimetri ci siamo spaventati qua, eh. È una tragedia per noi. Noi non siamo abituati. Eh! E quindi, però, un bello spettacolo. Molto bello. Chissà domani, povera me. Ormai dovrò scrollare la sito un'altra volta. Va bene. Ciao! Eccoci qua. Ragazzi! Entro in casa. Ciao! Oh mamma!